Allora, adesso ne andiamo a cercare un altro Che urli a fare Marti Boldenau Segnala E andiamo Andiamo a uccidere Non si sente niente con le sirine penso Ci andiamo con tutta calma, incogniti Corriamo Possibilmente senza la macchina scassata Ah è scassata Ragazzi, questo non si fa Non si fa Mi raccomando Trucchi non si fa Eh ma non siete bene così però Perché quello da subito è venuto a fuoco Salute Salute Ragazzi, salute Allora Ora la nostra macchina è ritornata come nuova Facciamo una breve panoramica Ohlele E andiamo Ah, stavo andando bene Sono andato a sbattere ma stavo andando bene Ragazzi come siete lenti Mio Dio Let's go Maria Maria Questa Manco qui vogliamo copiare ovviamente Prendiamo solo il copyright Comunque Andiamo Andiamo Wow Ma io sono un mostro Vaglio Bastardo Mi ha scassato la macchina Monezzo Ma se non hai apri il trucco Ecco Vai controlliamo Io ho sempre Ho sempre voluto far volare una macchina con questo metodo Ma non ci sono riuscito ragazzi È impossibile Pure io lo so fare Andiamo dai Uccidiamo questo bastardo Rompiamo il vetro per sparargli Oh yoke E vai Sto andando in controsenso Ma non ci interessa Perché noi siamo la polizia E tutto ci è permesso Wow E che curva E elimina i ricercati Ma quando non so Ma chi schifo Ma ho una visuale Una visuale Che è una mia figlia Adesso io mi metto qui Ma che è sta pistola Io voglio una mitragliatrice S'hanno ucciso solo loro Sono Si sono auto uccisi Sono proprio deficienti Adesso io esco Prendo il mio caro bazooka Amici Io ho detto che col bazooka tutto si risolve Con due colpi Penso che muovono tutti Hai visto un altro morto Senza averlo nemmeno mirato Ma dove c'è Where shit are there Ma non lo so manco se Altro colpo di bazooka E' volato E' volato Prendiamo i soldi ovviamente I soldi Come in assassin sono importanti anche qui lo sono C'è qualcuno che si nasconde qui dietro Con il frocio E' Ed era l'ultimo Bisogna punirlo Ah Era duro a morire amici Ragazzi adesso devo fare una chiamata importante Ecco qui Fatto A vederci Chi è che spara? C'è qualcuno che ha usciato Ragazzi Un bug Ma chi sei tu? Il poliziotto Il poliziotto che ci spara Anche se noi non abbiamo fatto niente Noi siamo della polizia Adesso ce ne fuggiamo Chi è questo qui che abbiamo ucciso? Abbiamo ucciso Che abbiamo ucciso? Ecco in metà Bo 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 Andiamo avanti Accediamo al computer e vediamo subito che abbiamo ucciso Marty Boldenau abbiamo ucciso Marty Boldenau Se lo trovo Ecco Adesso chi è il prossimo terrorista? Noel Katsudo Noel Katsudo Sempre per associazione delinquere Andiamo Segnala e fuggiamo Questo bel capellone dobbiamo uccidere E vai Distruggiamo la macchina Via col vento Io utilizzo molto la sirena perché è comodissima nel traffico Tipo possiamo andare contro mano Apri la fila Sirena e tutti se ne vanno Però mi scoccio di sentirla nelle orecchie Lo lasciamo stare Wow Wow Scusa Devi morire Allontanati Un altro clan Dovete morire tutti Mi sono autobloccato ragazzi Da poco mi esplode la macchina Mi sta per esplodere la macchina Non voglio morire Quindi subito Devo essere veloce Sono morto No Ci hanno ucciso amici Che figura Davanti a voi Che figura di merda Davanti a voi siamo morti ragazzi Che figura di niente Ho perso anche 4.000 dollari Che su euro Che ne so No sterline Dolle Che è quel simbolo ragazzi Ma che figura di niente Una figura del dick Va bene Per adesso ci fermiamo qui Ci vediamo Nel prossimo gameplay di GTA Dove faremo altre parti Da altri most wanted Arrivederci E iscrivetevi Votate Commentate Allaite Cronos Ciao Arrivederci